messi da parte gli addobbi natalisti il massimo campione regionale può riprendere la sua corsa l'alba del nuovo anno coincide con l'ultima giornata del girone andata e mette in palio il titolo di campione d'inverno per conquistarlo la squadra di guida deve resistere al ritorno del Civitavecchia ma soprattutto domare la resistenza di una formazione, quella di Manelli che detiene la serie positiva più longeva del torneo benvenuti al San Francesco di Aciglia, amici di Sport in Oro, V3 Maccaresi Anzio è un modo davvero straordinario per dare il benvenuto al 2023 un saluto e felice anno nuovo a voi tutti da Andrea Dirix e da Filippo Minichino cerca soluzioni, arriva Starace, pensa al tiro addirittura verso Rizzaro che riesce a smanacciare in calcio d'angolo angolo battuto da T6, occhio perché è uno schema, Starace splendida conclusione del capitano della V3, pallone che passa a centimetri sui piedi ancora di Starace che si fa ingolosire e si prova nuovamente e anche in questo caso fallisce il bersaglio grosso di pochissimo ancora Damiani, la mette giù, poi si gira pallone tra le braccia di Rizzaro dentro Citro, pallone di Giovanni, troppo tenero poi lo mette Citro, finisce a terra al limite dell'area, dice l'arbitro protestano quelli della V3 che sostenevano che fosse all'interno dell'area di rigore fischia il direttore di gara, parte Giordani col destro, il pallone passa, c'è la direzione rete, Giordani, Lazio in vantaggio, si è sbloccato il match al San Francesco di Aciglia ha trovato l'angolino, Giordani, pallone alla sinistra di D'Alessandro e Anzio in vantaggio va in verticale da Damiani, guardato a vista da Busti, ancora Damiani passa pallone troppo centrale, Damiani, l'apertura sulla destra per Caffarelli che può andare al cross eccolo che parte al centro di Giovanni Vizzaro in due tempi la fa sua occhio a Anzio, recupera la porta l'estremo difensore della V3, azione personale da parte di Bencivenga Di Giovanni, prova a partire sull'uomo, parte il cross, carambole pericolosissime, ancora una volta decisivo Fusaroli occhio al break dell'Anzio, 2 contro 1 Gamboni la mette dentro per Regolanti pallone agganciato dal 20, si coordina si coordina Regolanti ed è 2 a 0 per l'Anzio che di fatto probabilmente chiude la partita con l'ottava rete in campionato di Giuliano Regolanti di parte, starace di collo pieno pallone che taglia a fette l'area piccola c'è stata una deviazione finisce qui al San Francesco di Aciglia dopo 4 minuti di recupero l'Anzio conquista la quarta vittoria consecutiva settimo risultato utile di fila per la formazione di Mario Guida sempre più leader nel girone A di eccellenza A di eccellenza Grazie a tutti.